Sfilare per la Camera della Moda qui a Milano Moda Graduate è sicuramente un'ottima opportunità, una grande esperienza formativa. Grazie a Naba e Camera della Moda ho avuto l'occasione di far sfilare un mio outfit durante la Milano Fashion Week e ho vinto per la sezione YPK anche se non me lo aspettavo, è stata davvero una sorpresa ed è stata un'esperienza fantastica. Grazie a tutti!